Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me, dai miei libri, dai miei cimili calcistici e dalla mia maglia della beneamata nera azzurra che come già ben sapete questa risale alla fine degli anni 70, è un cimilio a cui tengo tantissimo, va bene, va bene, va bene, va bene, cari signori, cari signori, cari signori, come ben sapete io, il sottoscritto è, oltre ad avere il difetto di essere interista, è anche uno stramaledetto metallaro del cazzo, detta così com'è. Da bravo metallaro mi piacciono le cose fragorose, rumorose, che picchiano duro e che soprattutto fanno casino e devo essere sincero, un aereo che mi è sempre piaciuto tanto, 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 tanto e tirerò fuori l'efforto da questo bellissimo volume che si intitola Legendary Warbirds di Lugino Cagliaro, con le splendide foto di Lugino Cagliaro, un libro che ci fa vedere alcuni dei protagonisti della seconda guerra mondiale e uno dei protagonisti della seconda guerra mondiale fu senza dubbio lui, guardatelo, lo riconoscete, guardate che bello, guardate che bello, bello, bello. Non sarebbe neanche bello perché è piccolo, è tozzo, non è sicuramente elegante, non possiede la finezza dello Spitfire, non possiede l'eleganza del Mustang, non possiede, come dire, la finezza aerodinamica dello Zero, no, no. è il Grumman F4F Wilkett, il gatto selvagno, il gattaccio rognoso, il piccolo bastardo ignorante che nei primi mesi di partecipazione americana alla guerra resse il peso della guerra per la marina americana. era il caccia imbarcato sulle portaere americane al posto del mediocre, scadente e deludente Brewster Buffalo, meglio noto come il barile di birra, bidone col quale oggettivamente i soli che riuscirono a combinare qualcosa di buono furono i finlandesi durante la guerra d'inverno, ma sappiamo bene che i finlandesi erano in grado di far volare pure i crocifissi e tirarci giù i russi, ma questo è un altro discorso perché secondo me i finlandesi sono stati i migliori piloti della seconda guerra mondiale perché combattendo con macchine, diciamoci la verità, di seconda fascia riuscirono a fare autentici miracoli, detta come. Ma torniamo al protagonista di questo video, torniamo al Wildcat, eccolo qua, eccolo qua. Dicevo piccolino, tozzo, poco elegante, ma estremamente funzionale, estremamente robusto, estremamente facile da pilotare. Era un pilot's plane, era un aereo per piloti, un aereo forse non esaltante come prestazione, un aereo non perfetto sicuramente a livello tra virgolette aerodinamico, ma era un aereo che faceva il suo dovere, ovvero sia picchiare duro e buttare giù i giapponesi. Allora, detta così com'è, non era un aereo particolarmente maneggevole, che contava tra i suoi punti di forza una indubbia robustezza costruttiva. Era un aereo solido, era un aereo potentemente armato, era un aereo amato dai piloti che, come dire, riuscirono ad avere eccellenti, riuscirono a conseguire eccellenti prestazioni su questo simpatico scatolotto tondeggiante che vi rifaccio vedere anche qua in una bellissima, in alcune bellissime inquadrature di Cagliaro. Questo, per esempio, è un Wildcat con la livrea della Flitter Air, dell'aviazione di marina inglese. Era un aereo, il Wildcat, come dicevo, è stato il primo e più importante caccia monoplano della US Navy a essere impiegato operativamente dal ponte di volo delle porta aerei durante la Seconda Guerra Mondiale. E non a caso le sue prime versioni costruttive, cioè la F4F3 e la F4F4, furono per i primi due anni di guerra quanto di meglio la marina americana potesse schierare contro i Giapponesi. Questo aereo disponeva della, come dire, della indispensabile capacità di ripiegamento delle ali per facilitare le operazioni dai ponti di volo e anche dopo l'apparizione dello Hellcat, del superlativo Hellcat, dello straordinario Hellcat, il Wildcat, grazie allo sviluppo delle versioni migliorate costruite dalla General Motors e chiamate FM1 ed FM2, è rimasto uno dei protagonisti assoluti delle battaglie del Pacifico, operando principalmente, dopo l'entrata in servizio dello Hellcat e del Corsair, dalle piccole portaerei di scorta. Nel settore atlantico, invece, venne utilizzato per missioni di scorta alle navi e convogli e operando congiuntamente con gli Avenger per missioni di scoperta e attacco degli U-Boot tedeschi. L'aereo venne inoltre fornito alla Fleet Air Herm che lo utilizzò con il nome di Mertlet. Insomma, un protagonista indubitabile e assoluto della Seconda Guerra Mondiale. Un aereo non bello, sicuramente, ma che faceva il suo mestiere e che lo faceva dannatamente bene. Allora, siamo sinceri, affrontare in combattimento come per il P-40, come per il P-39, come per il P-38, affrontare in combattimento manovrato 1-0 anche per il Wildcat era un suicidio. E la tattica era sempre quella. Comportarsi come un'incudine che casca sopra una lattina di Coca-Cola vuota. Prendete una bella incudine da 50 kg, tiratela su a un metro d'altezza, se ci riuscite, e poi fatela cadere di colpo o sul vostro piede oppure su una lattina di Coca-Cola. Ok? I Wildcat si comportavano con gli Zero più o meno così. Sfruttando la solita tattica inventata dalle tigri volanti di Chennault, dai P-40 che volavano sui P-40 Tomahawk, sempre quella. Raggiungere il prima possibile una quota superiore alle formazioni giapponesi in arrivo, picchiare verticalmente sui giapponesi, sparando con tutto quello che si aveva a disposizione sui bersagli che si incrociavano durante la picchiata, non perdere tempo in virate, acrobazie o quant'altro perché i giapponesi ti avrebbero tirato giù e filarsene il più velocemente possibile. Una tattica che funzionava, una tattica elementare, una tattica che costò molto cara agli Zero dell'aviazione imperiale giapponese, che si trovarono impossibilitati a sfruttare le loro principali caratteristiche, ovvero quelle della maneggevolezza, del ratio di virata stretta e della straordinaria capacità acrobatica. Gli americani sapevano bene che affrontare uno Zero in acrobazia voleva dire semplicemente se andava bene, prenotarsi una bella Purple Heart, se andava male, un bel posto al cimitero degli eroi ad Arlington. Chiaro? Quindi, che vi devo dire? Il piccolo, tignoso, grintoso e, vabbè, non bello ma cazzuto Wildcat Wildcat fece la sua parte in guerra. Messo in ombra dallo Wildcat, messo in ombra anche da quel superlativo uccellaccio da guerra che fu il Corsair, uno degli aerei più belli della storia. Un aereo, il Wildcat, che fece la sua parte, la fece con onore e che fece, come dicevo, parecchio male ai giapponesi. Tutto qui. Quindi, ve l'ho detto, se avete voglia di spendere un po' di soldi, dovrebbe essere ancora in giro a disposizione, il libro da cui ho tratto le foto del Wildcat è questo, Legendary Warbirds, un insieme di immagini scattate dal grande fotografo Luigi Cagliaro di aerei della seconda guerra mondiale tuttora volanti. Foto veramente belle che mi servono a parlare di questa mia vecchia passione. Quindi, cari signori, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi auguro buonanotte e come sempre arrivederci alla mia prossima sera, al mio prossimo video. Ok? Buonanotte allora. Grazie a tutti. Grazie.